Grazie a tutti Colpevole perché lasciamo i mari puliti ragazzi Anche dei nostri neonisti Ma per favore ormai è veramente uno schifo Manco fosse plastica porca mia Però ragazzi abbiamo la prova del 9 Perché questo è un livello di pitch Ciao lei l'altro Se tolgo il pitch Vediamo il piccino Ciao Provo gli ebrei Andrete in una struttura dove i bambini sono Non una novità Ma quindi Ecco capito Ci saranno ovviamente porzioni Degli imbatti per loro Esatto E li si può far stancare Stiamo parlando di agio di maturità Secondo me è una certa tipologia Nero, freddo e cioccolata Cioè sono Alla sera sono strappati Ma andate in una struttura in cui Dovrebbe essere Che sì dovrebbe essere No Andiamo Che sì dovrebbe essere 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 Che... 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 Che sì dovrebbe essere Che sì dovrebbe essere Che... Che sì dovrebbe essere Che... Che sì dovrebbe essere Che sì dovrebbe essere Che... 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 Grazie a tutti. 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 Mi rendevano politicamente inaccettabile, quindi come punizione...